Ciao, oggi vi presenterò l'applicazione web ClassTac. ClassTac è un'applicazione web che permette di creare una classe virtuale nella quale comunicare tra i studenti e i genitori principalmente. Questa si può utilizzare come una lavagna virtuale e comunica le attività degli studenti. Adesso vi mostrerò l'applicazione web. Questa è la pagina principale di ClassTac. Si può fare il login con Facebook o metti la tua email e la password. Devi entrare come teacher per così creare una classe. Come potete vedere, questa è principalmente pensata per il livello di scuola primaria, gestione di gruppo e una lavagna virtuale. Questa è la classe demo, che sarebbe quella che ti crea l'app per vedere come funziona questa. Qui possiamo vedere gli studenti aggiunti, le famiglie con esse, gli annunci che abbiamo fatto. Qui possiamo vedere le attività che si possono aggiungere, per esempio un evento, un volontariato, le cose da fare, per parlare su genitori e professore. Qui in My Activities possiamo vedere le attività da fare, per esempio oggi. E qui sono le attività passate, quelle che si hanno fatto. Qui nel direttorio, nell'elenco, si aggiungono i genitori. Qui possiamo vedere Ariel e, sì, sono i personaggi finti. Ma possiamo vedere come è l'email, il numero di telefono e così per comunicare con i genitori. Qui nelle foto possiamo aggiungere delle foto delle attività passate, dell'evento, per esempio, dell'evento di la gita, le statistiche. E qui possiamo cambiare il nome della classe, per esempio se la classe dell'anno scorso vogliamo continuare per il prossimo anno, lo possiamo fare. C'è anche una posta dove possiamo ricevere i messaggi, la comunicazione tra parenti e genitori. Si crea un nuovo messaggio per i genitori di Ariel. Si viene il messaggio. E ci dice che è detto il messaggio. E ci dice che è il messaggio.